E' andato dritto e ha fermato la sua corsa in mezzo alla rotonda contro il paro dell'illuminazione pubblica. E' accaduto questa notte intorno a Luna alla rotatoria situata su corso indipendenza che regola l'incrocio con Frazione Vesignano ad una Range Rover Discovery condotta da un giovane di 22 anni di Quarnier. La vettura è salita sulla rotonda terminando la sua corsa contro il palo e addirittura inclinandolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, la croce rossa di Rivarolo e il carabinieri di San Giorgio Canavese. Il giovane è rimasto illeso ed è stato solo controllato in ambulanza. Il tratto è stato chiuso per sicurezza in attesa dei tecnici dell'Enel. Sì, insomma, basta con alcune loro. Grazie. 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 Grazie.